Pioggia gelata e ghiaccio sull'autostrada 25 fra Pratola Peligna ed Avezzano. Per circa un'ora e mezza l'accesso autostradale è rimasto interdetto agli automobilisti con il traffico che è andato in tilt. È cominciato con qualche disagio il mese di marzo fra gelo, ghiaccio e altra neve caduta nella notte, fortunatamente in quantità non abbondanti. In Valle Peligna le attività didattiche si sono tenute regolarmente. Nessun disagio per la circolazione. Risveglio traumatico per gli automobilisti che dovevano imboccare l'autostrada riaperta dopo le 8.15. Le temperature, stando al bollettino della protezione civile regionale, sono in aumento e torneranno sopra lo zero nel pomeriggio fino a quote di montagna. Spessori nevosi previsti. 10-25 cm sui settori occidentali e dorsale appenninica. 5-10 cm sui settori adriatici. Per domani sono previste piogge dalla tarda mattinata sui settori occidentali e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di rovescio temporali più probabili lungo il confine laziale. Sui settori costieri saranno per lo più deboli ed isolati a carattere intermittente. Temperature in aumento con quota neve oltre 1.500-1.700 m al mattino, in calo fino a 1.000-1.200 m in serata.